Mi metto a rappare veloce e finisce che prendi un elettroshock Anche in piedi, dirò ancora la prossima barra e poi vedi, bro Ti consiglio di avere le mani asciutte e un paio di scarpe ai piedi Non vi rimane che rimane ma non rimanere male Sempre di toccare male, non male di pare, di boccare male Periuccare male, mano con la vena, giugolare, vita, brai, collare mmm di 3 don 12 3 Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.